Lei chi è? Visto che le uniche persone ammesse in questa stanza sono i tuoi medici e i tuoi familiari, io sono il tuo cugino alla lontana Ralph. Lieto di conoscerti finalmente. È venuto a controllarmi. Ci vorranno almeno due ore per sapere se le pari da funziona. Allora cosa ci fa qui? Sì, mio padre mi ha insegnato che è disonorevole interrompere una persona che sta leggendo. L'onore non è una parzelletta. Esca dalla mia camera. Ne è valsa la pena? Nel migliore dei casi passerà il resto della vita all'Eavenworth. Nel peggiore dei casi passerà il resto della vita qui. La giustizia per 34 morti conta più di quello che può farmi l'esercito. Hanno avuto giustizia? Loro lo sanno? Se fossero morte solo dieci persone, quattro... Anche un solo civile che muore... Se fossero rimaste solo mutilate ne sarebbe valsa la pena? Avevo il compito di registrare quel video e mettere tutti i dettagli nell'archivio ufficiale. Dopo averlo guardato dieci volte, non ho più tentato di convincermi che quella pala avrebbe potuto essere scambiata per un'arma. Riuscivo a vedere solo i volti delle vittime. E tentavo di leggere le labbra di un bambino per capire le sue ultime parole. Non dormivo più... Non mangiavo... Crede che mi piaccia questo look? I capelli sono diventati grigi in tre giorni. Il mio corpo mi diceva che dovevo fare... Tutto il possibile perché una cosa del genere non accadesse mai più. I tuoi capelli sono diventati grigi in tre giorni.